eccoci, ci siamo, via, si gioca tutto, via bene, qui è partito come prima, molto disinvolto, vedete che sta dando tutto come ha fatto la prima sembra non andare avanti, sembra non andare, e guardate che velocità 67 centesimi di vantaggio, aumenta di due decimi per Razzoli, fantastico a doppia qui da gestare benissimo, è entrato qui in modo perfetto bene, bene, sta dando lui il ritmo no, è impressionante, se scende con questo ritmo non ce n'è, non ce n'è 66 centesimi di vantaggio continua così, bravo l'ultimo velo largo qui, ha toccato giù con la mano, vediamo speriamo che ascolti Ravetto e che faccia quello che gli ha detto forza, forza, forza 1.39.48 il tempo di Corsoli, ci siamo, ci siamo lì 39.32 è medaglia d'oro, è medaglia d'oro la storia è lì, la storia è lì, l'avevamo detto senza paura 27 febbraio, di 16 anni fa, 16 anni fa oggi l'ultima medaglia italiana con Alberto Tomba 22 anni fa, il 27 febbraio eravamo a Calgary con Alberto Tomba oro eccolo lì Alberto, eccolo lì Razzoni è medaglia d'oro, è medaglia d'oro è medaglia d'oro